Musica Pronti, piccola intervista doppia con due giocatrici dell'ECM Pink. Nome? Ilaria Federica Cognome? Soranzio Bertozzi Ruolo? Guardia Ala E da quanti anni hai giocato a basket? Una ventina direi. Un Quattordici, quintici Parli con le vecchie Al di là della palacarestro, il vostro hobby, cosa vi piace fare? A me piace un sacco trekking, fare trekking. A me è leggere. Si sta, vengo a me. E con le ECM Pink abbiamo un sogno nel cassetto? Come ci piastiamo quest'anno? Direi prima, secondo. Sicuramente nelle top 3. Quindi un bel forza. ECM Pink Un passado un professor tra l'ecchitativa, sicuramente nell'euro neben benvo Mastery, icons OLU Fantastico. Perchè? CorBY Willi?